Vangelo di domenica 11 settembre 2011, Luca 15, 1, 32. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli iscrivi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Egli disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice, rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la mia parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Siamo praticamente al cuore del Vangelo di Luca. Questo capitolo 15 raccoglie tre parabolette, cioè due parabolette e una parabola invece molto grande, quella famosissima del figlio il prodigo o del padre misericordioso o dei due figli, del padre e i due figli, tanti nomi per dire un testo straordinario che è nel cuore di tutti, uno dei vertici anche della letteratura mondiale, questo racconto. Ma questo racconto è preceduto da due piccole parabole, parabole che Luca riunisce perché tutte e tre ci raccontano il volto di un Dio inatteso, un Dio pazzo d'amore, diremmo così, folle d'amore per i suoi figli che va a cercare ansiosamente, come un pastore che va dietro a quell'unica pecora che si sbarrisce. Dice Gesù, chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non va dietro, lascia le 99 e va dietro a quell'unica, la risposta sarebbe nessuno, nessuno lascia 99 pecore per andare in cerca dell'unica perduta, Dio invece lo fa. È come quella donna, interessante, interessante la donna, Dio paragonato a una donna che perde la sua moneta e la cerca e poi fa una festa enorme, una festa sproporzionata con le sue amiche e le vicine perché ha ritrovato la sua moneta. Ecco, noi siamo quella pecorella cara al cuore di Dio che Dio viene a cercare, noi siamo quella moneta così importante per la donna di casa, noi siamo quei figli che si allontanano di casa e che vengono riaccolti con un abbraccio che toglie il respiro, ma potremmo essere anche l'altro figlio, quello bravo, quello che ha sempre obbedito, quello che è rimasto a casa col padre, ma che non ha mai vissuto una relazione da figlio, ma da servo, che ha obbedito più per paura forse che per amore. Anche quel figlio lì il padre va a cercare, tutti i due i suoi figli si sono allontanati, uno fisicamente anche, uno nel cuore, si è allontanato nel cuore dal padre. Ecco, ma Dio va a cercare tutti, infatti Gesù racconta queste parabole proprio per rispondere alle mormorazioni dei farisei, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Perché Gesù frequenta questa gentaccia, dicono i farisei, perché sta con questa feccia della società, con questi candidati alle fiamme dell'inferno? Lo fa perché così è Dio, è Dio che va a cercare i suoi figli, specialmente quelli lontani, è come un medico che va a cercare i malati per guarirli, per salvarli, per dare loro un'altra possibilità. Con Dio c'è sempre un'altra possibilità. Nella misericordia del Signore c'è sempre un nuovo inizio, come per il figlio che torna a casa, come per il figlio maggiore che viene invitato alla festa. Sarà entrato, la parabola non ce lo dice, rimane aperta, perché ognuno di noi deve scrivere quel finale, fare festa per ogni peccatore che si converte, fare festa per ogni fratello che torna nella comunità, fare festa per ogni volta, che ognuno di noi si accorge che è stato cercato da Dio, che è stato amato ed è amato con le sue ferite, con i suoi limiti, con le sue cadute, ma che il padre, che il pastore ti rimette sempre in piedi e dice alzati e cammina, vai, vai nella fiducia di un futuro diverso, tu puoi essere diverso ed è la misericordia che ci rende nuovi.